Per 30 ospedali che chiudono i battenti in Puglia, tra mille polemiche e rivendicazioni, è stata ufficializzata la nascita di 5 nuove strutture. Nel Salento, a Taranto, tra Maglie e Scorrano e a Fasano. Poi uno nel Nord Barese ed uno nella Bat, per un importo complessivo di circa 500 milioni di euro. Lo hanno annunciato il Presidente della Regione Puglia, Nichi Vendola, e l'Assessore alla Sanità, Ettore Attolini. Questo, quantomeno, è il programma che, dopo la consultazione con le conferenze dei sindaci, diventerà una proposta al Ministero della Salute per la sottoscrizione dell'accordo. Poi, dalla firma dell'accordo al completamento delle 5 strutture, dovrebbero passare circa 4 anni. Pochi ospedali, è l'intento dell'operazione spiegato da Vendola, per grandi bacini di utenza, con dentro tutte le risposte tecnologiche più mature, le specialità e gli organici necessari. Dunque, si vogliono creare ospedali di ultima generazione, di dimensioni medio-grandi, cioè dai 350 ai 700 posti letto, perché, ha detto Attolini, noi avevamo un ospedale ogni due comuni e mezzo, con un tasso di ospedalizzazione tra i più alti d'Italia ed una percentuale di ricoveri inappropriata. Nel 2010, ad esempio, era del 49%, e su 102 ospedali solo 11 coprivano il 50% del totale dei ricoveri. I costi per i nuovi ospedali salentini sono di 210 milioni per Taranto, 700 posti, e poi stesse dimensioni e costi per quello nel sud Salento e per quello di Fasano, 84 milioni di euro per 350 posti a testa.